Ciao, sono Gianluca Grignani su panoramaditalia.it Sono molto contento di come è partito. Per assurdo tutto quel casino che è successo mediatico non ha influito sulla forza, anzi per certi aspetti c'è chi dice che ha avuto, ma in realtà non è così. Ha dato semplicemente credito a quello che dice il titolo, non a volte esagero. Per quello che riguarda il resto io sono dell'idea che devo veramente lavorarci tanto. Questo è un disco che merita molto, sono due anni di lavorazione, quindi vuol dire due anni di sudore, sangue, sangue nel senso buono, tutte le persone che ci hanno lavorato, dai musicisti ai fonici, alla London Symphony Orchestra, insomma è un disco che merita, credo che ce ne siano pochi dischi così in genere in questo momento. E quindi vale la pena di lavorarlo, quindi per me è solo l'inizio. Un cantautore elettrico è un artista che non si sente un cantautore perché non gliel'hanno concesso quando aveva 22, 23 anni e aveva scritto Destinazione Paradiso e sembrava quasi fosse un problema. Oggi è considerato quel disco quello che è considerato, però ha trovato una maniera diversa di sentirsi un cantautore, ha usato l'elettricità e è diventato un cantautore elettrico.